ANSA, Roma, 6-8, il capogruppo PD alla Camera Ettore Rosato, nel suo intervento alla direzione DEMMA. Chiestogli da Matteo Renzi per illustrare la riforma elettorale che porta il suo nome, ha chiesto, in vista dell'approdo della legge in aula, grande attenzione ai voti segreti. Non possiamo fallire, ha detto Rosato, che ha descritto i punti della legge, e la fatica di mettere insieme otto forze politiche per raggiungere un equilibrio delicato sul testo. Rosato ha anche evidenziato il fatto che il voto unico aiuta a costruire la coalizione.